In questo classico moderno della science fiction, Bruce Willis recita la parte di un detenuto del futuro mandato indietro nel tempo per fermare la propagazione di un virus letale che altrimenti decimerebbe la popolazione mondiale. Per il suo ruolo, un pazzo rinchiuso in un manicomio, Brad Pitt ha ottenuto la candidatura all'Oscar.